In un comune ad alta vocazione turistica, come quello di Nago Torbole, è necessario trovare il giusto equilibrio tra la necessità di offrire agli ospiti gli eventi e quella di tutelare la quiete dei residenti. È quanto emerso durante l'incontro pubblico organizzato alla Casa della Comunità di Nago dall'amministrazione comunale guidata da Gianni Morandi, durante il quale sono stati discussi gli appuntamenti inseriti nel calendario degli eventi 2017 e alcune questioni di sicurezza e ordine pubblico. È necessario instaurare un rapporto di collaborazione e informazione reciproca tra gli operatori economici e comune, sia dal punto di vista delle idee sia dal punto di vista pratico, ha dichiarato il primo cittadino, formulando un'offerta di servizio quante più consona a cittadini e turisti, vantaggiosa ma che al tempo stesso tuteli la tranquillità di chi lo desidera. Alla serata, a cui hanno partecipato una cinquantina di residenti e operatori commerciali, erano presenti anche l'assessore alla sicurezza Fabio Malagoli, il comandante della polizia locale Alto Garde Ledro Marco D'Arcangelo, il luogotenente Carmelo Giordano della stazione dei Carabinieri di Nago Torbole e l'ispettore capo Marco Ferruzza del commissariato di Riva del Garda.